La maglia è iconica quando ha quei tratti di design unici, innovativi, nuovi, che non si sono mai visti sul mercato o quando è una maglia che riprende un momento molto particolare, molto speciale, diciamo, nella storia del club. L'importanza del suo successo è due, prima di tutto, alla creatività di Macron nel show dei design, di riprendere l'istoria della ville, l'istoria del club, che è la più importante, e di essere conformi ai colori del nostro club. Incontrare i club per me è fondamentale, non c'è cosa più importante in questo processo di creazione della nuova collezione perché il rapporto vis-à-vis aiuta tantissimo la comprensione appunto dei desiderati dei vari club e aiuta anche loro a capire ancora meglio quello che noi possiamo fare per loro. Sia la maglia da calcio che la maglia da rugby sono molto tecniche. La maglia da rugby ovviamente ha dei tessuti molto resistenti, delle cuciture rinforzate, in modo che col contatto non si strappino. Le Lou Rugby e Macron hanno grandiato insieme. Il y a quelques anni, le Lou Rugby è un club pro D2. Macron ha su evoluire in tempo, in la technicità di questi prodotti, nel design di questi prodotti anche. On può vedere oggi con questo magnifico siège a Bologna. Grazie per la visione!